E' stato firmato il 16 maggio scorso il contratto di appalto dei lavori di realizzazione del ponte a scavalco sulla SP1 Traniandria, anche se c'è una nuova modifica burocratica importante, cioè il cambio del responsabile unico della procedura. Qualche piccolo passo in avanti c'è insomma per la realizzazione di un'opera particolarmente attesa da oltre 300 tra aziende e coltivatori che lavorano nel territorio Traniandria e Trani. A quattro anni dal finanziamento da circa 4 milioni di euro della giunta regionale della Puglia e ad un anno e mezzo dalla chiusura del bando per i lavori, quantomeno c'è un contratto firmato. La provincia batte in tappaltatore ha provveduto a sostituire anche in Rupa, finando all'ingegner Lorenzo Fruscio, la responsabilità del procedimento. A realizzare i lavori sarà l'RTI tra la Servizio e Costruzioni SRL di Andria e la Encoen Partners di Grumo Appula. L'opera dovrebbe completare un progetto, quello all'ammodernamento di circa 4 chilometri della strada provinciale è concluso nel 2017 e da cui fu stralciato proprio il ponte a causa dei costi lievitati dell'opera. La speranza che il 2023 sia l'anno giusto per metterle basi definitive per un progetto che dalla consegna formale dei lavori dovrà essere realizzato entro 432 giorni.